ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati sul mio canale io sono claudia e oggi vi voglio presentare una serie di nuovi filati ovvero cordini per borse che potete acquistare sul sito www.merceriamari.it partiamo subito dal tripolino tinta unita che abbiamo chiamato spaghetti come potete vedere è un cordino che è lavorato con un macchinario a tre aghi quindi a tre facce questo cordino e per questo si chiama appunto un tripolino il nome deriva da questo sono rocche da 500 grammi quindi 500 grammi effettivi di filato ogni rocca pesa più di 500 grammi perché ha anche la scocca di plastica il filato effettivo sono 500 grammi si lavora con un uncinetto tre e 4 ed è un prodotto italiano ci sono diverse tinte ad esempio questa che state vedendo è il rosa antico poi ce ne sono altre come ad esempio questo jeans che io trovo favoloso che è screziato sul grigio non è un lurex è assolutamente però è una screziatura un jeans screziato veramente bellissimo poi come potete vedere c'è il grigio perla c'è il rosso ce ne sono tantissimi altri c'è il bordeaux un blu acceso lilla il fragola il bianco veramente diversi colori nella stessa versione degli spaghetti abbiamo anche quella con il lurex quindi oltre alla tinta unita ci sono anche gli spaghetti lux che invece questi hanno proprio il lurex assieme ad esempio questo qui è un azzurro intenso con il lurex multicolor sono sempre rocche da 500 grammi si lavorano sempre con l'uncinetto tre e mezzo 4 quindi è la stessa cosa è un tripolino lurex uguale alla tinta unita ma appunto qui brillantato con questo filo lame assieme qui ci sono alcuni colori come ad esempio questo qui è il rosso che ha sempre il lurex multicolor assieme vedete e poi abbiamo le tre varianti del nero ovvero il classico nero e argento guardate come brilla poi abbiamo il nero e oro e poi abbiamo quello che secondo me è il top del top il più bello di tutti il nero nero ovvero il nero lurex nero che non è né oro né argento ma è colore su colore io lo trovo veramente elegantissimo è brillante e molto molto fine adatto per le pochette per le borse da sera secondo me è veramente bellissimo vedete che ha una brillantezza splendida mi piace veramente un sacco questo è sicuramente uno dei miei preferiti guardate che meraviglia veramente molto molto bello e poi continuiamo con un nuovo filato che è una fettuccina una piattina tubolare che è questa qui vedete che è un tubolare voilà vedete ed è piatta e super super brillante queste sono le tagliatelle sono sempre rocche da 500 grammi ma si lavorano con un uncinetto più grande ovvero un 5,5 o 6 e questo permette di realizzare una borsa ad esempio in meno tempo perché essendo che si lavora con un uncinetto più grosso ci si impiega meno che effettivamente lavorarla con un cordino e questo ad esempio il color blu poi abbiamo altri colori come questo che è il biscotto e quello che vi facevo vedere prima invece che è il panna guardate la lucentezza secondo me di questo filato è veramente favolosa io l'ho già appena lavorato infatti questa è la bovina iniziata del lavoro che ho fatto uscirà presto quindi il tutorial anche di questo ho realizzato una conchiglia a spirale che poi può essere usata da portavaso, portafiori, da home decor diciamo e si lavora benissimo, ha una scorrevolezza pazzesca una lucentezza ancora più bella e secondo me è veramente molto utile e molto bello non solo per realizzare le borse quindi è una fettuccina, una piattina veramente secondo me stupenda e degna di nota e di essere provata tutti questi prodotti che vi ho fatto vedere quindi gli spaghetti tinta unita, gli spaghetti versione luxe e le tagliatelle sono tutti prodotti continuativi quindi che potete continuare a trovare sul nostro sito magari può esserci la variante del bagno, del colore però li troverete sempre quello che invece è una limited edition è questo cordino velvet cordino velvet che è una ciniglia rinforzata cosa vuol dire rinforzata? che è una ciniglia non uguale assolutamente non uguale a quella che trovate in gomitolo che può essere usata per fare le maglie oppure gli amigurumi o quant'altro questa è una ciniglia adatta a realizzare borse perché assieme a un filo lavorato proprio assieme alla ciniglia c'è un filo che le fa da rinforzo e le permette di rimanere rigida e quindi di far stare la borsa comunque in forma perché infatti tutti questi cordini non sono adatti a realizzare l'abbigliamento proprio perché troppo rigidi una rigidità che nelle borse serve ma in altri capi no assolutamente no quindi questa ciniglia è proprio creata apposta per realizzare le borse non è un filo di lana o un altro filo è un cordino per borse qui ci sono rocche da 250 grammi si lavorano sempre con un uncinetto abbastanza grande quindi un 5,5-6 è sempre un prodotto italiano e ci sono diversi colori la tinta unita come ad esempio questo porpora che vedete poi c'è il rosso, c'è il blu, c'è il nero ce ne sono diversi e ancora secondo me più belli sono invece gli sfumati ad esempio qui ho questo qui mix sul rosa che mi piace tantissimo e poi ho anche questo qua che è un mix sul blu hanno una consistenza veramente molto morbido al tatto e che assomiglia tantissimo a quella del velluto quindi proprio per questo l'abbiamo deciso di chiamarlo cordino velvet per questo motivo questi qui sia le tinte unite che gli sfumati come dicevo prima sono limited edition quindi fatevi il calcolo se volete realizzare una borsa ok di far conto di averne basta perché scorta ne abbiamo un po' però finita non verranno riassortiti ok? quindi mi raccomando solo più che altro per non trovarvi poi a metà lavoro o essere senza fatevi bene il calcolo sono rocche nonostante che siano da 250 grammi rendono molto e presto usciranno anche dei tutorial appunto dove andremo a usare questo cordino precisamente questo colore usciranno con degli inserti per borsa personalizzati che adesso vi spiegheremo poi in futuro ci saranno delle novità anche per quanto riguarda gli inserti per borsa e vedremo di utilizzare sicuramente tutti questi cordini ma in modo particolare andremo ad usare questo forse il primo progetto che andremo a realizzare sarà proprio con questo cordino detto ciò spero che questi cordini vi siano piaciuti che vi sia venuta voglia di provarli e ci tengo a precisare ancora una cosa ve l'ho fatto notare in tutti ma ci tengo a ribadirlo tutti questi cordini sono prodotti in Italia quindi da un'azienda che si trova in Italia lo ribadisco perché non sono prodotti di importazione e in questo momento soprattutto difficile che stiamo attraversando secondo me è importante anche aiutare le aziende italiane quindi è una scelta che noi abbiamo fatto veramente col cuore di scegliere di non trattare i cordini di importazione e ci tengo veramente a ribadirlo e a farvi notare questa cosa vi ricordo anche che dato che siamo in un periodo tra virgolette di quarantena dove siamo tutti a casa per motivi purtroppo non molto belli ma questo è abbiamo deciso di fare una promozione valida fino al 3 aprile dove tutte le persone che acquisteranno tre rocche di uno qualsiasi di questo filato o anche di tutte e tre non devono essere per forza tre rocche uguali ma può essere una ad esempio per tipo ne riceverà una quarta in omaggio quindi questo fino al 3 aprile approfittatene e restiamo tutti a casa a uncinettare a creare le nostre borse e a cercare di rendere le nostre giornate un po' più allegre e un po' più spensierate che ce n'è veramente bisogno detto questo spero appunto che questi cordini vi siano piaciuti qualunque creazione realizzerete con loro noi aspettiamo come sempre le vostre foto e grazie grazie di tutto ci vediamo presto ciao